Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che come sempre vi tiene compagnia già dalle prime ore del mattino dopo il rosario c'è l'informazione con i giornali, i giornali che tra poco sfoglieremo prima però guardiamo il santo del giorno, oggi è un santo importante tra l'altro qui vicino a Fano c'è San Biagio, un luogo bellissimo dove si può fermarsi un po' per stare in tranquillità, anche un po' per ritrovare se stessi, pregare. San Biagio, San Biagio chi era? Era un vescovo, tra l'altro un vescovo che si ritirò per conto suo in una grotta difeso da animali feroci ma che per lui erano animali di compagnia poi era un santo, uno che faceva tanti miracoli, ha salvato anche un bambino che era rimasto con una lisca di pesce conficcata nella gola, insomma è anche protettore della gola quindi se volete potete oggi e avete problemi alle corde vocali, alla voce, insomma potete affidarvi a San Biagio, ok? Ma è anche protettore tra l'altro invocato come protettore degli animali domestici, come propiziatore del raccolto, ok? Allora il sole è sorto alle 7.23, tramonterà le 17 e 21 minuti, vediamo adesso invece il tempo, siamo sempre sul nostro sito internet, vedete c'è il bottone meteo, bello grande, eccolo qua, entriamo nella pagina dell'osservatorio meteorologico per vedere la temperatura, questa mattina è ancora bella, si sta bene, nel senso sono quasi 10 gradi e siamo alle 7.32 del mattino, mentre il cielo, vedete, è grigio con le nuvole e peggiorerà nella giornata di oggi. Ecco infatti il tempo che prevede la protezione civile per mercoledì 3 febbraio, avremo un cielo parzialmente nuvoloso con ulteriore nuvolosità nel pomeriggio, tardo pomeriggio e sera con questo deciso aumento della nuvolosità cumuliforme, avremo anche dalla serata, attenzione, e durante la notte, stanotte, quella che arriverà tra mercoledì e giovedì, rovesci o temporali sparsi e localmente saranno anche di forte intensità, il limite della neve sarà in progressivo calo attorno ai 600 metri, però attenzione ci sono anche i venti, i venti non solo i temporali, i venti che nel corso del tardo pomeriggio della sera ruoteranno da nord e si intensificheranno in particolare lungo la fascia costiera fino a burrasca forte o addirittura tempesta. Attenzione, ve l'abbiamo detto, ve lo diciamo, ritorniamo sulla scritta, questa è la protezione civile delle Marche che dice da questa sera, tardo pomeriggio, sera, repentina rotazione da nord ed intensificazione in particolare lungo la fascia costiera fino a burrasca forte o addirittura tempesta, quindi siete avvisati, dal tardo pomeriggio stasera organizzatevi anche con le cose terrazze, con vasi, cose, tutto quello che può essere coinvolto quando c'è il forte, anzi fortissimo vento da questa sera. Attenzione, domani la quiete dopo la tempesta, vedete sulla parte settentrionale all'inizio della mattinata, naturalmente ancora al primo mattino ci saranno residui rovesci temporali, poi man mano nel corso questi temporali scivoleranno giù verso le Marche con ancora nevicate sui Sibillini temporali, ma questo riguarda il sud, mentre la parte settentrionale, vedete, si libererà e darà spazio al sole che continuerà a splendere anche per tutta la giornata di venerdì, però poi il tempo ricambierà di nuovo e tornerà brutto, probabilmente non voglio gufare, ma insomma forse domenica il carnevale avrà qualche problemino, ma non solo quello di Fano, poi tutti i carnevali d'Italia, perché domenica sarà una giornata con maltempo diffuso su gran parte del nostro paese. Fa discutere l'intervista rilasciata ad una troupe della TV di Stato, una intervista in carcere, nel carcere di Teramo a Luca Varani, il mandante dell'agguato a Lucia Annibali, quello con l'acido e il Carlino questa mattina dedica due pagine a questa autorizzazione, a questa intervista che ha fatto sbottare letteralmente la procura della Repubblica di Pesaro e Urbino. Solo il direttore del carcere raccoglie le dichiarazioni di un detenuto. La legge infatti parla chiaro, il procuratore dunque contesta la procedura. La famiglia Annibali, il padre di Lucia, Luciano, diremo qualcosa solo dopo aver visto la trasmissione. Parole davvero sagge. La banda del buco è entrata in una oreficeria, l'allarme fa svanire però il bottino, i ladri sono entrati da Semprucci in pieno centro a Pesaro, sono passati dal giardino e dal solaio. Guardate il buco che hanno fatto qui sul soffitto e poi sono entrati però come dicevamo non hanno portato via niente però chiaramente hanno fatto come spesso accade in questi casi tanti tanti danni. Il Lido, siamo a Fano sulla pagina principale, un bel servizio quello del Carlino questa mattina che giustamente fa questo articolo, pubblica questo articolo dove ci mostra che cosa verrà costruito al posto di questo di questa palazzina che non c'è più perché è stata abbattuta ed ecco cosa verrà fuori. Questo è il rendering e questo è il progetto quindi si passa da un vecchio stabile fatiscente ad un condominio, ieri è stato titolato e definito di lusso, che tronca chiaramente lo vedete in maniera decisa forse farà anche discutere per queste non è proprio esattamente, forse qualcuno si aspettava qualcos'altro ma insomma però questo è il condominio che tronca con il passato. Tutti i progetti in cantiere sulla zona del mare e c'è l'articolo che potrete trovare a leggere sulla pagina di fano di oggi del resto del Carlino. Il Carnevale fin qui è andato a grassa, per fare meglio però serve l'X Factor e l'X Factor si chiama Margherita Principi che ha partecipato a questo talent show di Sky e domani sarà in piazza per cantare, ieri ve l'abbiamo fatta sentire nel corso del nostro telegiornale, un assaggio, questa bellissima voce di Margherita Principi che appunto domani sarà e che aspetta tutti quanti in piazza 20 settembre. Non ci sarà il duo idea domani credo ma ci sarà nei prossimi giorni, però insomma saranno sindaco del Carnevale per un giorno o comunque fino alla fine del Carnevale insomma. Questa è la notizia. Poi guardate invece qua, aiutati anche dalla vignetta, sempre simpatica il disegno di Giombetti, la notizia di questo nonnino di 92 anni, qualcuno dirà cosa ci faceva ancora alla guida di un'auto, si vede che qualcuno l'ha autorizzato e lui c'era. Un nonno di, e lui la utilizza chiaramente, un nonno di 92 anni che ha urtato un camion ed è fuggito poi senza una ruota. Con il solo cerchione ha viaggiato per 15 chilometri arrivando dal Furlo fino ad Urbino. Poi chiaramente la stradale lo ha individuato e lo ha bloccato e bellina questa carina, questa vignetta di Giombetti, tra l'altro lui sembra mister Magoo, anzi pare proprio sia lui insomma. Sotto invece è tutto vero, ecco la ruota mancante nella macchina di questo signore che guidava questa Citroën Saxo e questo è, guardate, ha fatto anche un bel danno perché, però lui ha continuato ad andare dritto, come se nulla fosse, ha spaccato tutta la fiancata, ha rotto tutta la fiancata destra della sua automobile. Bergastolo invece per un muratore che uccise la moglie nel 1987, forestato dopo 27 anni. Vincenzo Scudera abitava a Pesaro da decenni, secondo l'accusa dietro l'omicidio di Rosaria c'era la relazione che il marito aveva già iniziato con la cugina di lei. I militari del reparto operativo lo vanno ad arrestare la mattina del 18 luglio del 2014, lui si è sempre detto innocente, ieri la sentenza della corte d'assise. Apriamo adesso invece il corriere adriatico. La pagina di Pesaro, ricorderete sicuramente, soprattutto chi ama gli animali, fece stringere lo stomaco quella notizia del canile abusivo, lo stallo, eccetera, eccetera. Ebbene, oggi in realtà viene fuori che dentro quel canile non ci fu nessun maltrattamento e sono state assolte madre e figlia, però c'è anche un risvolto, se vogliamo, amaro in questa notizia, perché Maria Rosa Ricciarini, una delle due che appunto gestivano questo canile, non ha potuto ascoltare ieri mattina le parole del giudice Paolo De Luca, perché è morta d'infarto a 57 anni e quindi così, questa è la parte diciamo amara, un canile, appunto lo stallo è un canile era, era stato dichiarato, un canile abusivo, però è già stato riabilitato da una sanatoria, non proprio gradito dai residenti del paese e c'è la storia che potrete leggere nei particolari qui sul Corriere Adriatico di oggi. Andiamo sull'altra pagina invece, l'altra pagina per parlarvi del saldo negativo delle imprese, cioè sono di più quelle che chiudono rispetto a quelle che aprono ed è il saldo del 2015, hanno chiuso i battenti a Pesaro, in provincia di Pesaro, 2.295 attività e 2.121 sono nate, la provincia conta 41.256 imprese. I segni positivi invece sono soltanto nel settore della ristorazione e nell'attività immobiliare e dalla Camera di Commercio arriva questo invito ad aiutare la vocazione imprenditoriale, ma c'è poco da... è difficile avere una vocazione imprenditoriale in un paese martoriato, tartassato come il nostro, cioè ti passa qualunque vocazione con un sistema fiscale come il nostro, è impossibile, quindi anche se uno ce l'ha, la vocazione la esprime probabilmente all'estero, da qualche altra parte, dove non viene tartassato. E siccome l'uomo a volte spesso combina guai, guardate cosa ha in mente adesso di fare in uno dei posti più belli, noi ve li abbiamo mostrato, ve l'abbiamo mostrata questa cascata, sto parlando quella del sasso a Sant'Angelo Invado, su Televoce Cristiana, sul canale 216, abbiamo filmato questa cascata perché è un angolo di paradiso e ci abbiamo messo in sovraimpressione dei salmi, che potevano servire benissimo con della musica in sottofondo per pregare, quindi pensate che cosa pensiamo noi di questa cascata, ebbene guardate il titolo, una centrale sulla cascata del sasso, la regione dal via libera al nuovo impianto idroelettrico sconcerto tra gli ambientalisti, i cittadini e noi ci mettiamo anche un po' di fedeli che hanno pregato con noi per tanto tempo guardando e meditando sulle cascate appunto, su questa bella cascata del sasso Sant'Angelo Invado, non sappiamo più come rovinare questo benedetto pianeta. Carnevale a pagamento, oggi si scopre sul Corriere Adriatico che si può fare, l'esperienza di un paese qui vicino, si chiama Cartoceto, con il presidente Gilebbi le soluzioni logistiche ed economiche per accrescere la qualità. Pensate che a Cartoceto, molti di voi andranno ai carnevali di mezza quaresima, dunque a Cartoceto se uno vuole andare a prendere le uova di Pasqua che lanciano dai piccoli carri di Lucrezia e Cartoceto deve pagare 2,50 euro. Ebbene questi 2,50 euro attenzione, cosa fanno? Danno, non solo riescono a far coprire le spese organizzative, comprese quelle della SIAE ma mettono a posto i bilanci della Proloco piuttosto che di chi organizza questi eventi. Quindi magari una telefonatina e sentite un po' come funziona. Giovedì Grasso il programma di una giornata speciale, ve l'abbiamo già detto, alle 16.15 c'è l'investitura ufficiale del sindaco Carnascialesco, quindi questa volta il sindaco, i sindaci sono due in realtà perché è il duo idea e poi c'è l'esibizione della appunto bella Michela Brocchini, no Michela Brocchini, non c'entra niente, il presidente del paese dei Balocchi, Margherita Principi, ecco scusate, Margherita Principi. Ok, torna, e parliamo adesso di cultura, torna la predella attribuita a Raffaello, lo ha annunciato il vice sindaco Marchegiani presentando Vito Inserra che è diventato nuovo presidente della consulta delle associazioni e che prende il posto della dimissionaria Maria Flora Gianmarioli. Ok, allora andiamo adesso invece sull'altra pagina del Corriere per due notizie, una da Cartoceto, l'altra da Fratterosa. Allora da Cartoceto la regione ci aiuti, chiede il sindaco, dice il sindaco Enrico Rossi, a chiudere la voragine che si è aperta in via Umberto I. Ricorda che il comune ha già stanziato 32 mila euro per questa voragine. Poi di Carnevale si parla anche a Fratterosa, sotto il tendone, briscolata e fritto a fratte. Usando un po' il gioco di parole. Allora, a Senigallia la cronaca bancario subisce un furto e simula una rapina. Un ladro gli aveva rotto il vetro dell'auto e portato via 45 mila euro. È stato denunciato per blef. Tra i più ricchi invece ci sono avvocati e medici. Va sempre di moda pubblicare sui giornali i redditi, quindi quanto guadagnano per esempio il sindaco Mangialardi, gli assessori, i consiglieri. Ebbene, sul sito del comune ci sono i dati che giustamente il Corriere ha ripreso e pubblicato questa mattina. Adesso per chiudere la rassegna sul messaggero, in apertura anche oggi la sanità. Ceriscioli accende il PD, il governatore torna nella sua villa fastigi per spiegare ai democrat la riforma e per difenderla. Si procede con Marche Nord, parte il tour nei territori, il segretario Agostoli, il segretario del PD dice ci metto la faccia. La poltrona invece del ministro Franceschini nell'arredo di casa Rossini a Pesaro. Franceschini infatti ha deciso di offrire al comune di Pesaro la seduta da barbiere che arriva dalla sua collezione privata. Ceriscioli servono oltre alla sanità, parla anche dei comuni che servono più grandi, quindi spera che si possano fondere come Pesaro, Monbaroccio, Urbino e Tavoletto, ma anche altri comuni. La proposta di legge che dà la facoltà di indire referendum locali, i piccoli fanno fatica a erogare i servizi, quindi forniamo un'opportunità. Grazie a questo atto si riapriranno le partite delle incorporazioni che appunto, come ho già detto, sono quelle già previste, insomma, Pesaro, Monbaroccio, Urbino e Tavoletto, che però ora sono bloccate dal Tar. Il piano spiaggia pesarese, la giunta dice sì e accelera, nasce anche un comitato a Pesaro, surf per Pesaro e chiede la rimozione delle scogliere. Il gruppo conta già 700 iscritti e lancia una petizione, togliere gli scogli per ridurre l'erosione. Da Fano invece la pagina, la notizia principale riguarda la predella di Raffaello, grande pubblicità per la nostra città, soddisfatto il vice sindaco Marchengiani, l'opera è stata già molto apprezzata. Poi sotto altre notizie c'è anche questa foto che fa tirare un sospiro di sollievo, ponte sul metauro a Calcinelli, rimossi i pericolosi tronchi che facevano da tappo e che comunque avrebbero creato problemi anche soprattutto alla struttura del ponte a punto. Allora, noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera con il telegiornale delle 20 e 30. Arrivederci.